Domenica 15 luglio a Rosolini, presso l'eremo di Croce Santa, quarta mostra del cane, primo memorial Peppe Pricone, la mostra canina aperta a tutte le razze, meticci inclusi, con o senza pedigree. Per tutti i partecipanti saranno distribuiti ricchi premi. Best in show finale. Primo premio, viaggio in Spagna per due persone. Secondo premio, un iPhone 4S. Terzo premio, TV LCD 32 pollici. Apertura e iscrizioni a partire dalle 16 fino alle 18.30. Per info e iscrizione, contatta il 331 47 59 121 o cerca su Facebook Mostra Canina Rosolini. L'evento sarà ripreso dalle telecamere di Canale 8. Quarta mostra del cane, chi lo ama non può di certo mancare. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.